Non tradisce le attese, l'SLZ solofra nell'esordio casalingo stagionale del campionato di divisione regionale 1. La compagine giallo-blu supera per 72-51 il basket club Giuliano, salendo a quota 4 punti in classifica e confermando quanto di buono fatto vedere la settimana scorsa nella trasferta di Avelino. Contro i partenopei sono Niccolò Griego, 15 punti, e Giuseppe De Kunzo, 11 con 13 rimbalzi, i mattatori di un incontro che ha visto i padoni in casa sempre avanti nel punteggio durante i 40 minuti di gioco. L'SLZ è cinica ed abile a sfruttare le 24 palle perse degli avversari per costruire un vantaggio già nella prima frazione di gioco, 18-5 al decimo. Nella ripresa Giuliano trova un minimo di continuità offensiva sugli scudi Montanerino, autore di 22 punti con 4-6 nelle triple, che non basta a ribaltare un'inerzia totale a favore di Solofra, attesa domenica prossima alle 16.30 nella trasferta di Ischia. Buona la prima anche per la Virtus Ariano, con una prova di carattere ed una gara giocata ad alta intensità, le leonesi iniziano la nuova stagione con una vittoria tra le Muramiche. La formazione del duo Bellizzi batte al palacardito la New Generation Napoli con il punteggio finale di 87-51. Le ragazze del Tricole affronteranno poi nel prossimo turno la Basilia Basket Potenza, sabato 19, durante la prima trasferta della stagione.